Buonasera signore, ebbene sì, qui puoi mangiare tutti gli hamburger che vuoi Tutti gli hamburger che voglio? In che senso? Forse non lo sai, ma siamo il primo locale in tutta la Puglia dove puoi fare un Oliukenit di hamburger a un prezzo veramente stracciato Non ci credo, l'ho trovato veramente E credici, credici Credici perché è tutto vero e spoiler, non crederai al prezzo Quindi non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito con gli antipasti perché sì, non sono Oliukenit di hamburger ma anche di antipasti E mi raccomando, tieni di forte perché E qua ti devi muovere che non si perde tempo con l'Oliukenit, ti ho già portato una bella parmigiana Allora, senti una domanda, ma tutta sta roba è compresa nel prezzo Vai tranquillo, vai tranquillo che io vado di fretta, arrivo, arrivo Chiudo, troppe calorie, troppo fritto Ho la bocca invasa dal fritto Siamo usati all'inizio perché Ti sto portando i panini Di già Perché panini, queste sono delle peste che ti prendono a pugni tutte le famiglie gustative Ti dà 100 euro se a questo Oliukenit di hamburger e riesci a mangiarti più di due panini Finati al 100% è impossibile Cioè, guarda, sono talmente grossi che per quanto pesano io mi stavo allenando Preparati perché ti sto per svedare il nome di questo locale che ti porta Verso la strada del paradiso Mi trovo da TheFoxBurger a Foge Lulukenit È disponibile ogni martedì